Il tripudio di colori tra coriandoli, maschere e stelle filanti, così la piazza di Campomarino ha accolto i tantissimi bambini che hanno sfoggiato i loro costumi. Musica, balli e tanto divertimento hanno coinvolto grandi e piccoli. Ad animare il tutto un gruppo di clown che ha coinvolto tra bolle enormi di sapone e simpatici scherzi tutti i presenti. I costumi prediletti sono stati quelli classici tra principi e principesse, poi c'erano anche i bignamini dei più piccoli come l'uomo ragno e superman ma anche zorro. Giorgio da cosa sei vestita oggi? Spagnola. Da cosa sei vestito tu oggi? Nasi messe. Ad essere presenti sia in qualità di organizzatrice che di spettatrice l'assessore Giuseppina Occhio Nero che abbiamo sentito ai nostri microfoni. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso e quest'anno abbiamo voluto ripetere, visto anche il successo e l'entusiasmo di chi ha partecipato insieme a me e a tutta l'amministrazione nell'organizzazione del Carnevale 2013. E allora quest'anno abbiamo pensato all'edizione 2014. Musica.